Affrontate un test, un esame, sicuri della vostra preparazione, ma le cose non vanno come vi aspettavate. Sapersi autovalutare è fondamentale nell'ottica dell'apprendimento efficace. Ci consente di scoprire dove siamo crenti e al contrario ci fa risparmiare tempo inutile speso a ripassare cose che abbiamo già assimilato. I parametri per accertare la vostra preparazione sono piuttosto semplici. Dovete porvi tre domande. La prima, sono in grado di ripetere l'argomento in modo chiaro senza bisogno di consultare schemi o appunti? La seconda, sono in grado di mettere in pratica quello che ho imparato rispondendo a domande precise sull'argomento, test ed esercizi? La terza, sono in grado di produrre esempi concreti e fare collegamenti interdisciplinari per spiegare questi concetti? Questi sono i tre parametri a cui dovete prestare attenzione per valutare la vostra preparazione. Allenatevi esponendo a qualcuno davanti allo specchio, a una telecamera. Cercate di mettervi nei panni di un oratore, di un insegnante che deve esporre l'argomento a qualcun altro. Cercate di costruire collegamenti interdisciplinari e non trascurate mai la parte pratica. Fate tutti gli esercizi possibili. Questi sono i segreti per autovalutarsi e capire se avete compiuto una preparazione perfetta o se è il caso di tornare a studiare.